Decapitato per la terza volta ma non per questo meno violento e il mandamento mafioso palermitano della Noce colpito duramente dall'ennesima operazione della squadra mobile di Palermo. Il nuovo colpo al mandamento ha avuto un'accelerazione dopo il ferimento nei giorni scorsi di Vincenzo Di Cristina, 56 anni, che aveva ricevuto già il 16 di novembre il primo avvertimento in via Scillato davanti casa sua. Qualcuno gli aveva bruciato l'auto, una Alfa Romeo. Il 3 dicembre venne ferito alla gamba con un solo colpo d'arma da fuoco, un segnale chiarissimo. Secondo gli agenti della squadra mobile il clan aveva continuato con tutti i sistemi ad imporre il pizzo. Il 2 di novembre infatti un commerciante della Noce era stato pestato a sangue barbaramente con un mazzuolo perché aveva aperto il suo negozio senza chiedere l'autorizzazione. In carcere è finito anche quello che è ritenuto il nuovo capo mafia della Noce, si chiama Giuseppe Castelluccio, ha solo 37 anni ed è un falegname. L'inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Francesco Del Bene, Anna Maria Picozzi e Amelia Luise, ha ricostruito la nuova mappa del pizzo. I boss della Noce pretendevano il pagamento di 3.000 euro dal commerciante che non voleva pagare. Era la tassa necessaria per sanare l'apertura del negozio senza l'autorizzazione mafiosa. Con Castelluccio sono finiti in carcere Carlo Russo e Giovanni Buscemi che sono considerati gli intermediari i boss di medio livello per il pizzo. Marco Neri che sarebbe colui che andava a richiedere il pizzo e ancora Angelo De Stefano, Massimiliano Di Maio e il marocchino Cerciel Gana. L'operazione di oggi denominata Agrion è in qualche modo un seguito dell'inchiesta Atropos dell'ottobre 2012 e Atropos 2 del marzo di quest'anno che finora hanno portato all'arresto di una cinquantina di persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, di stampo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti e detenzione di armi. Il gente che era già oggetto di attività investigativa della struttura che era naturalmente proseguita a seguito delle operazioni dello scorso anno che avevano disarticolato il mandamento della noce e quindi diciamo già patrimonio conoscitivo che riguardava questi soggetti che sono comunque rimasti coinvolti nella vicenda di cui parliamo i soggetti erano appunto noti, erano oggetto di risultanze investigative che erano già in corso di emersione dalle attività nostre e che sono state quindi incrociate con i fatti.